A seguito dell'ennesimo attacco di lupi verso un allevamento di pecore a Terra Nuova Bracciolini, il sindaco Chienni scrive all'assessore regionale all'agricoltura Stefania Saccardi, chiedendo risposte che salvaguardino il lavoro degli allevatori, più volte colpiti da un animale che mette in ginocchio i produttori. Una situazione che grava sugli allevatori, spiega Chienni, provocando ingenti danni economici e vanificando l'impegnativo lavoro che svolgono. Una salvaguardia del lavoro dei produttori, ma anche del bestiame stesso. Oltre ai capi uccisi, infatti, quelli che riescono a sopravvivere dall'attacco rimangono traumatizzati, producendo così meno latte. Come se non bastasse, lo smaltimento delle carcasse ha un costo per l'allevatore che così, oltre al danno, vede anche la beffa. L'appello di Chienni è solo l'ultimo di una lunga serie che ha visto coinvolte anche le associazioni di categoria richiedere più volte interventi alla regione. ente competente in materia.